Musica Oggi mi metterò alla prova con la torta alle ciliegie E gli ingredienti sono 250 grammi di ciliegie 100 grammi di farina doppio zero 100 grammi di ricotta 80 grammi di zucchero 1 uovo 30 grammi di burro Mezza bustina di lievito per dolci Una buccia grattugiata di un limone E zucchero di canna Per iniziare monto l'uovo con lo zucchero Poi aggiungo il burro sciolto E continuo a mescolare E aggiungo anche la buccia del limone grattugiato E aggiungo anche la ricotta Poi verso la farina un po' alla volta E quindi aggiungo il lievito per dolci Continuo a mescolare E poi per ultimo le ciliegie un po' alla volta Ho infarinato e imburrato uno stampo Ho messo qualche ciliegia Adesso verso l'impasto nello stampo Poi lo metto in forno a 170 gradi per circa 20 minuti Poi aggiungo altre ciliegie Poi aggiungo altre ciliegie E' pronta Speriamo bene